salve anternian come vedete di fronte a noi abbiamo il computer un monitor lenovo un territorio di solito shiba il cavo displayport e il cavo hdmi e all'interno del computer vi è una scheda grafica asus j force gtx 1650 e adesso io vedrò di collegare questa scheda grafica al monitor renovo attraverso il cavo displayport e sempre sulla scheda grafica il televisore toshiba tramite il cavo hdmi per poter avere due schermate e due televisori o monitor con la stessa schermata o schermate separate nel computer e ora vi faccio vedere i vari ingressi e i vari collegamenti questo è il retro della scheda grafica come vedete abbiamo tre ingressi uno è il dv che ovviamente al momento a me non serve l'altro è l'hdmi che sarebbe questo qui l'ultimo è il displayport quindi a questo displayport utilizzando questo cavo qui vedrò di collegare la prima estremità ovviamente però di collegare la prima estremità ok così è collegato al monitor che ha ovviamente l'ingresso di sotto come vedete ha l'ingresso di sotto che dovrebbe essere questo qua questa invece è l'hdmi ma non mi serve quindi questo qui ok il primo risulta collegato vedo di collegare il cavo hdmi quindi la prima estremità hdmi tra l'altro questo cavo era è incluso con il momento quindi io lo sto diciamo sfruttando con lego questo ok ok potete vedere l'ingresso che dmi che sarebbe questo qua ce l'ha dietro non so se c'è nel più di uno comunque a me interessa per quindi collego l'altra estremità del cavo hdmi è collegato così dovrebbe essere tutto collegato ora vedo di dare una sistemata e poi vediamo un po effettivamente come è venuto e se effettivamente si riescono a vedere serbaratamente le due schermate ok come potete vedere tutto è collegato adesso proviamo ad accendere ok sia il monitor che il televisore si sono accesi perfetto l'accello computer vediamo un po cosa si vede ok sopra in alto ha scritto dp display port in quanto l'altro sta riconoscendo probabilmente il secondo televisore dobbiamo impostarlo ok 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 come potete vedere anche nel secondo schermo si vede però ovviamente si vede schiacciato le varie impostazioni modificabili per renderlo diciamo nella dimensione sat le vediamo direttamente attraverso la schermata del pc quindi registrarlo direttamente lo schermo del pc bene adesso ci troviamo sulla schermata principale sia del monitor e del televisore allora prima di tutto se i dispositivi hanno delle uscite audio sarà possibile cliccare qui dove c'è indicato il simbolo dell'audio qui sopra apparirà una lista dei vari dispositivi che risultano collegati effettivamente al computer e quindi come primo dispositivo mi risultato shiba la tv quindi come uscita audio risulta e come secondo realtech hd audio second output che sarebbe quello delle cuffie o comunque del led set len d24 f10 che invece l'uscita audio del monitor altoparlanti che sono quelli che vi ho fatto vedere con il bus booster e questo è un altro tipo di uscita che a noi però in questo caso non interessa quindi intanto già come prima cosa io posso vedere appunto le uscite audio e posso capire se effettivamente sono riconosciute o meno dal pc per vedere alcune impostazioni dei due schermi collegati ci basterà cliccare su start impostazioni sistema e come potete vedere come prima opzione c'è indicato proprio schermo e io ho a disposizione appunto due schermi il primo che sarebbe quello principale che è quello del monitor e ora lo vediamo il secondo che è quello secondario che è quello del televisore e io posso decidere appunto di spostare un po come voglio i due i due monitor tra loro direttamente andando su uno dei riquadri ma a me questo non interessa proprio se io clicco sul primo posso capire che effettivamente il monitor perché come risoluzione dello schermo c'è indicato 1920x1080 mentre nel secondo 1280x768 ma non solo per riuscire a capirlo bene mi basta andare su impostazioni schermo avanzate e come vedete c'è una descrizione proprio di qual è il televisore a monitor connesso e tra l'altro è indicato connesso a nvidia geforce gtx 1650 quindi questo significa che il monitor len d24 f10 è connesso appunto alla scheda grafica correttamente e qui c'è anche frequenza di aggiornamento che sarebbe 144 hertz poi e altre impostazioni mentre se clicco sul secondo e vado sempre su impostazioni di schermo avanzate risulta il nome toshiba tv ed è connesso a nvidia geforce gtx 1650 e va invece a 60 hertz che è il massimo quindi questo è diciamo è per capire intanto che sono appunto collegati però come potete vedere dal video io sto usando hobs per comodità il secondo televisore non ha diciamo una proporzione adeguata effettivamente a a uno schermo diciamo a 16 noni ma risulta un po ridotto infatti se lo sposto anche verso il basso questo come vedete ci sono delle bande nere mentre questo è 1920x1080 questo risulta 1280x768 comunque non proprio la dimensione che dovrebbe avere infatti anche lo schermo non risulta proprio riempito appieno è necessario modificare questa impostazione e come lo possiamo vedere questo come lo possiamo modificare ci basterà andare sempre su impostazioni come ho aperto prima e andare su risoluzione dello schermo cliccando qui possiamo stabilire una risoluzione differente e io provo ad inserire 1280x720 e clicco mantieni modifiche come vedete non è cambiato tantissimo ora provo invece perché le dimensioni sostanzialmente sono le stesse ora provo a inserire invece la scelta consigliata e clicco mantieni modifiche ora come potete vedere su OBS è cambiata un po' la schermata e riempie un po' di più lo schermo effettivamente però ancora non è effettivamente ciò che stiamo cercando perché comunque risultano delle bande nere e lo stesso io vedo comunque sul televisore come vedete qua mi risultano effettivamente le dimensioni corrette su OBS però se io provo a spostarmi sul secondo schermo come vedete in realtà non riempie l'intera schermata quindi è evidente che devo modificare le impostazioni in altro modo quindi ciò che andiamo a fare adesso sostanzialmente portare l'impostazione a 1280x720 che diciamo sarebbe la dimensione ridotta di 1920x1080 poi io chiudo questa schermata faccio clic destro su impostazioni Nvidia e vado sul pannello di controllo Nvidia e qua sono già su regola dimensioni posizione del desktop e andiamo su modifica della risoluzione selezioniamo su SHIB e vado a selezionare PC 1280x1024 e vediamo un po' clicco su applica quindi come potete vedere in questo modo diciamo che risulta ingrandito ora poi vi faccio vedere anche un'immagine o comunque un breve video per farvi vedere effettivamente le dimensioni di entrambi gli schermi rispetto all'inizio e rispetto ad ora adesso risulta che il secondo schermo riempie completamente appunto la schermata su OBS ovviamente non verrà la stessa dimensione perché la schermata impostata risulta di 3200x1080 quindi ovviamente dato che il limite massimo che può raggiungere questo televisore Toshiba e 1024 comunque in ogni caso risulterà un po' ci saranno comunque delle bande nere sopra e sotto però non sono riuscito a trovare un modo proprio per adattarlo perché qualunque impostazione metto comunque lo mantiene in questo modo quindi direi che comunque se avete un televisore che rispetta quelle dimensioni questo è il modo più veloce vi basta andare sull'applicazione NVIDIA e sul pannello di controllo NVIDIA e modificare la risoluzione mettendo come indicazione PC e la dimensione che diciamo si adatta meglio alle alle vostre necessità spero che il video sia stato utile e arrivederci al prossimo video Anternions 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 Anternions